Tu tieni un dono immenso, non sprecarlo. La vita del massimo tenore italiano, la nascita in una modesta famiglia, i primi successi, i trionfi. Con la tua voce puoi conquistare il mondo. Se vi applaudono Enrico, passerete alla storia, alla gloria. Anche in America la gente che conta è in galleria e io canterò per loro. Ciclo Vite straordinarie, Il Grande Caruso, giovedì alle 21 e 5. Credi di possedere una voce? Invece è la voce che ti possiede.